In estremi, se mai i lavori sono conclusi, ieri sera hanno ritombato lo scavo, piazzato il pozzetto e stamani dovrebbero riasfaltare, quindi i lavori conclusi al 100%. Tombato lo scavo, piazzato il pozzetto ed infine riasfaltato, il cantiere di via Fiorentina è così pronto per essere smantellato con la conseguente riapertura completa della strada. I lavori sono terminati a poche ore dalla partenza della città del Natale che apre il 18 novembre. L'impegno che personalmente io mi ero preso con i commercianti ma anche con i cittadini di prevedere lavori entro il tempo dell'ordinanza è stata rispettata, sono soddisfatto. Quella appena ultimata era la fase relativa ai sottoservizi iniziata esattamente un mese fa. Il prossimo step sarà la rotonda vera e propria ma i tempi si allungono. Il prossimo step è ovviamente finito, a questo punto i lavori propedeutici e dovranno iniziare i lavori veri, quelli della realizzazione della rotatoria e quindi a quel punto insomma ora programmeremo, faremo passare ovviamente il periodo natalizio e poi programmeremo un po' tutta l'attività coinvolgendo anche ovviamente l'attività economica e i cittadini sui possibili disagi.